Bella ragazzi, eccoci su Buterin Waves, allora nella posta oggi ci troviamo 20 refill, 5 pull per le armi limited, 10 per i banner limited insomma, che è tanta roba, poi ognuno le usa come vuole arrivare a di pull insomma, se qualcuno vuole Gian, qualcuno vuole Yilin, qualcuno aspetta Camellia, qualcuno vuole Ginsi, Changlin, fate quello che volete, ok? Comunque, per quanto riguarda questi 20 refill, allora ci sono molte cose da poter fare, ok? Iniziamo da che cosa ci aspetta? Sappiamo che in 1.1 i drop dei tasset fill verranno migliorati, che però è a fine mese, ok? Quindi se noi andiamo nei tasset fill, questi drop verranno migliorati, adesso vi dico come sono ora, no? E se voi andate a farli dal 30 al 40, vi dà 10 tuner gialli, che è una sub-staff sbloccata, quindi è un po' meh, e vi dà dai 1 ai 3 eco gialli, dai 1 ai 3 eco viola, insomma è un po' una roba triste, eh? A livello 40 tutti gli eco sono gialli e ci dà 15 tuner, ok? Ma in teoria li migliorano in 1.1, ok? Ora, oltre che a migliorarli in 1.1, il 20 per una settimana, se non sbaglio, quindi dal 20 al 27 dovrebbe essere, c'è il doppio drop dei tasset fill, ok? Che sicuramente vogliamo fare eventualmente, quindi il mio consiglio sarebbe non toccare i tasset fill, sicuramente fino al doppio drop, ma l'altra cosa sarebbe bello riuscire a raggiungere il livello 40 dell'account prima del doppio drop, quindi prima del 20, però manca tempo, ok? Siamo al 3 oggi, almeno io che sto registrando questo video, e mi aspetto che per il 20 riusciamo a fare il livello 40 dell'account, ok? Al momento sono al 37, ho usato un po' di stamina, un po' di refill in giro, insomma, però in 20 giorni mi aspetto che il 40 lo facciamo, considerato tutte le daily, considerato la stamina giornaliere, considerato qualche refill anche, ok? Quindi, per quanto riguarda i tasset fill, non li farei fino a che non c'è il doppio drop, poi se qualcuno li vuole fare, perché vuole proprio livellare gli accopatelli, ma sappiate che tra il doppio drop che arriva e il fatto che migliorano le ricompense in 1.1, io al momento ci sarei abbastanza lontano, ok? Quindi è questo. Mentre, per quanto riguarda la stamina in questi giorni, cosa uso come stamina per livellare, il mio consiglio sarebbe, siccome stiamo tutti in attesa di fare effettivamente il 40, ok? Ok? Almeno, la maggior parte di noi è in attesa di fare il 40, poi per chi è un attimo più indietro, per chi non c'è problema, ok? Però, per chi effettivamente sta aspettando, io non... allora, faccio un esempio, io sto tirando su 6 personaggi al momento, ok? E questi 6 personaggi hanno bene o male già le loro trace sbloccate, ascesi, arma al 60, eccetera, 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 ok? Quindi, cosa faccio adesso? Mi metto a farmare per un altro personaggio? No, ok? Quello che consiglio di fare io è prepararsi i materiali per l'ascensione post a livello 40, ok? Quindi andarsi un attimo a vedere qua, ok, che materiali mi servono a livello 40, ovviamente io ho la webcam nel peggior posto possibile ogni singola volta, ok? E vado a vedere, ok, mi devo effettivamente iniziare a guadagnare un po' di questi materiali qui, oppure quali materiali usa, che ne so, Sanua, vado a vedere, e ok, mi serviranno questi materiali qui. Quindi inizio a pre-farmarmi i materiali che mi servono sui personaggi che mi interessano di più, chiaramente che nella maggior parte dei casi sono i vostri DPS ad inizio, e post ascensione a livello 40, ok? Ora, volete usare il refill su questa roba o meno? Beh, tecnicamente sarebbe il top tenersi in stile fill per il 40, ma se vi aiutano a fare il livello 40 prima del doppio drop, secondo me io li userai, ok? Cioè io qualche refill sicuramente lo uso, adesso già non ne ho molti, io so che molti di voi li hanno tenuti, avete fatto comunque benissimo. La cosa migliore sarebbe tenerseli per il 40, andiamo all'inventario, al momento ne ho 27, la cosa migliore sarebbe ottenersi la maggior parte di questi post 40, così che i boss open world, che sono tipo il Beringali, il Crownless, insomma loro, no? Che ci droppano i materiali per le ascensioni, a livello 30 ne droppano 2, a livello 40 ne droppano 3. E' un bel po' di stamina risparmiata, ok? Quindi tecnicamente io questi qua non li farmerei fino al 40 effettivamente, perché è veramente tanta stamina, però per pre-farmare qualcuno si potrebbe anche fare, mentre i drop delle trace, questi qua, quindi i vari oggettini per livellare le nostre trace, probabilmente li farmerei. I boss settimanali io non credo che questa settimana farò al 40, quindi si potrebbero anche fare... Vabbè sì, aspetto sempre domenica per farli, che non si sa mai, insomma però i boss settimanali anche qui aspetterei volendo il 40 per farli. Comunque di base il concetto è, ok, o mi pre-farmerei i materiali per i personaggi post livello 40, che già state tirando su, ok? Poi ognuno ha la sua situazione, magari stavate già tirando su un altro personaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque l'idea di base è che starei il più lontano possibile dai tasset field, visto che li devono potenziare e migliorare, ma se veramente l'unica cosa che volete è potenziare gli eco... Vabbè, lì non vi posso dire niente, ok? Nel senso che ognuno fa un po' quello che vuole, onestamente. Yep, quindi, boss open world per pre-farmare effettivamente, oppure materiali per le trace, per preparare i vostri personaggi per quando scendete da livello 30 a 40, in modo che i vostri PG poi vanno a livello 60 a 70, le armi da 60 a 70, eccetera, eccetera, no? Cioè io già qua vedo che quando faccio livello 40 non ho assolutamente niente a livello dei materiali per tirare sulle mie armi e i miei PG, quindi probabilmente inizia a lavorare sotto quel punto di vista lì. Poi ovviamente c'è chi invece vuole yin-lin, e qualcuno vuole pre-farmare per yin-lin. Beh, se qualcuno vuole pre-farmare per yin-lin, io vi consiglio sempre di dare un'occhiata ai materiali di cui avete bisogno nella wiki, quindi avete la dreamless con materiali settimanali, questi qua ne avrete un miliardo perché li droppate dai mob, insomma, e dovreste farmare questi qua, gli ilix, si chiamano qualcosa, credo. Quindi, yep, funghi, mentre per quanto riguarda il boss open world è il mechabomination, e, yeah, quindi se qualcuno vuole pre-farmare per yin-lin, insomma, andatevi a guardare che materiali vi servono. Ovviamente non vi servono così tanti materiali, raga, perché tanto yin-lin per quando arriva, il massimo che la fate è 0,60, 0,70 per alcuni, quindi non è che vi servono tutti sti materiali, insomma, però se qualcuno vuole prepararsi, funghi, i materiali del mechabomination, i materiali settimanali del dreamless e gli ilix, ok? Quindi, meno male, questi sono i materiali che vi servono per yin-lin, e, yeah, quindi in caso potreste iniziare a pre-farmarvi il mechabomination. I boss open world, è vero che ho detto, è vero che ho detto, vabbè, sarebbe meglio farmarli post 40, però se volete pre-farmare in realtà ha pure senso, ok? Vedete voi, io forse pre-farmerei più le trace che i boss open world, perché, appunto, dropparne a 2, a 3 a costa di 60 fa parecchia differenza, ok? Cioè, nel senso, non so se... Vabbè, comunque, per pre-farmare yin-lin li farmerei, quindi se state aspettando che yin-lin la pulate il 6, io mi metterei a farmare mechabomination tutta la vita, e probabilmente anche i suoi materiali per le trace, contando che poi i materiali per le trace di yin-lin, magari alcuni di voi li hanno già comprati gratuitamente da Attackers Mao, oppure dal pass, o qualsiasi cosa sia, ok? Quindi, yeah, niente, questo è più o meno tutto l'ambaradam, tutto il miscuglio che c'è con i refill, ovviamente poi ognuno alla fine fa quello che vuole, però vi buttavo un po' la mia, io personalmente li userò per pre-farmare e prepararmi a livello 40, ok? Quindi al momento, per quanto riguarda gli echo, ci fermiamo un attimo, aspettiamo che arrivi il doppio drop, aspettiamo che arrivi il potenziamento di Tasted Field, poi vabbè, magari ogni tanto ce ne infiliamo uno lì in mezzo, non so, adesso vediamo comunque, va bene, in ogni caso. Nulla, fatemi sapere cosa farete voi, fatemi sapere quali sono i vostri piani, prendete yin-lin, quanto pg state tirando su, chi state tirando su, io ultimamente mi sto giga divertendo con alto, cioè, è spettacolare, non vedo l'ora di, mi mancano solo gli echo e, molto carino. Devo dire i gameplay con pistola su Wootering sono molto divertenti, devo dire, non posso, non vedo l'ora, comunque è molto simpatico ragazzi, quindi vedremo, va bene, ci becchiamo al prossimo video, fatemi sapere la vostra, alla prossima, fate i brati, bella. Musica 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 Musica